Dal punto di vista tecnico li ho visti molto determinati, molto buoni discretamente competenti nell'utilizzo della palla, nell'utilizzo dei passaggi c'è da migliorare qualcosina sul tiro, c'è da migliorare qualcosina sulle scelte ma ricordiamoci che questi ragazzi hanno 14 anni e quindi è naturale che davanti ci sia un sentiero lungo ma percorribile è un gruppo che sicuramente paga sotto certi aspetti come molti, diciamo dei due anni molto fisico per essere un gruppo siciliano che solitamente è tendente al basso, molto fisico devo dire che l'attenzione visto che sicuramente saremo un po' tutti abituati a non allenarsi per ogni gruppo non più di tre volte alla settimana di un'ora e mezza, tenere la concentrazione in tre giorni in pratica di cinque allenamenti di due ore ciascuno, oggi hanno risposto molto bene, molto attenti devo dire che sono soddisfatto